Se stai cercando una casa in centro, già ristrutturata, con un cortile privato, su un affaccio in uno dei palazzi storici di Faenza e nella tranquillità e nel silenzio, incredibile da pensare qui in centro, beh, allora rimani con me. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa villetta in vendita. Ci troviamo all'interno di Casa Valenti, in questo bellissimo complesso, ristrutturato e recuperato qualche anno fa dalla nota impresa faentina Bassi Costruzioni. Al piano terra troviamo questa bellissima corte privata, anche carrabile, come potete vedere, e da qui si affaccia tutta la zona giorno, quindi una zona living completamente open space, con cucina e bagno di servizio con la doccia. Al primo piano troviamo le due camere da letto, entrambe matrimoniali, ed il secondo bagno finestrato, anche questo con il box doccia. Grazie a tutti. Al secondo piano, beh, qui si trova un valore aggiunto di questa casa, perché troviamo questo bellissimo soppalco, che può essere utilizzato come zona living, come ora, oppure come zona studio, zona lavoro, zona relax, o anche terza camera da letto. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!